bravi 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 4 vicino vicino alla strada viva si fermi per cortesia grazie 4 di coppia fermati 4 di coppia fermati chi me ne ha messo dai dai Cesare dai Cesare dai Cesare dai Cesare dai Cesare dai Cesare Orania e Medazzima 5 per cui Orania Cima Pezzeno 9 2 Orania Orania Lezzeno L'aprigno turno sta concludendo la sua gara Terzo classificato Falco Dallarupenesto con Anna Loro Cesare Canali Angelo Timoniere Riva Secondo classificato Canottieri Aldo Medacima con Venazzo Andrea Marchi Marco Aldi Camilla Timoniere Primo classificato Club sportivo Orania con Fabri Lorenzo dal Ponte Dario Timoniere Timoniere Mariani Tego Reitä Desempatri Tutti Tre Poo S Quai Tôi Tone Ting Sa Ha Grazie.